Ottimo esordio dell'Atletic che, alla prima giornata del nuovo campionato, ha pareggiato per 1-1 con la Stella. Tra le mura amiche, gli uomini di mister Danilo Casadei hanno conquistato un pesantissimo punto contro una delle compagini meglio assortite del torneo e tra le più accreditate per la vittoria finale. Buona la prova dei padroni di casa bernesi, sempre lucidi, compatti ed organizzati ed in grado di creare interessanti occasioni da rete. A finisare il punteggio sull'1-1, i rigori realizzati da Siuni e Neri. La gara. L'Atletic comincia spingendo e dopo 90 secondi Neri conquista un corner, ma la battuta di Pugliese viene respinta fuori dall'aria da Fabri. Al settimo, brivido per i padroni di casa. Temeroli rinvia lungo, solazzo tutto solo non riesce a fare solo la palla e Gabellini ne approfitta per involarsi verso la porta. La difesa però riesce a rientrare, sventando il pericolo. Sul capovolgimento di fronte, Neri si propone sulla sinistra, punto un avversario e poi serve Casadei, che però calza troppo debolmente per impensierire Temeroli. Al dodicesimo ancora in avanti la compagine giallonera, cross di solazzo dalla sinistra. Pugliese prova ad agganciare la sfera ma non riesce. La palla arriva comunque sul destro di Fontana, che però calza alto. Al quarto d'ora, clamorosa occasione per gli ospiti, ma Sebastiani si supera con una parata delle sue. Al ventitresimo calcio di punizione per l'Atletic conquistato da Domeniconi. Si incarica dalla battuta Casadei, che calza raso terra, con la palla ad uscire alla destra del portiere. Al trentacinquesimo solazzo lancia lungo per Domeniconi, che ha domestica palla e serve Fontana. Il mediano giallonero poi verticalizza per Neri, che calza, ma senza trovare la porta. Al quarantaseiesimo Campanelli tenta di imbeccare Neri dalle retrovie. È solo un prodigio di Grieco, impedisce alla punta bernese di involarsi solitaria verso la porta avversaria. Si va a riposo sullo 0-0. Arientra in campo subito in avanti la stella. Del Prete si propone sulla sinistra la passa in mezzo, ma De Paoli anticipa l'attaccante rivale con l'ausilio di Sebastiani. Al quarto tiro raso terra scoccato da Gabellini, con l'estremo difensore giallonero a deviare in corner. Al dodicesimo grande occasione per l'Atletic. Fontana sventaglia a sinistra per Neri, che duella col difensore, penetra in aria ed appoggia nel mezzo, dove però nessun compagno si presenta all'appuntamento col pallone. Al quindicesimo per la stella ci prova Fabri da fuori, ma la conclusione è fuori misura. Al diciassettesimo i padroni di casa sfiorano al vantaggio. Domeniconi è abile nel procurarsi una punizione dal limite. Lui stesso si presenta alla battuta, trovando una traiettoria che colpisce il palo alla sinistra di Temeroli. Al ventesimo piccolo momento di tensione in campo. Il neo entrato Gomez subisce un evidente fallo in mezzo al campo. L'arbitro non fischia e Gomez ferma a sua volta l'avversario con un fallo vistoso ricevendo l'ammunizione, con gli animi ad accendersi. Al ventisettesimo un momento di poca lucidità del poggio in fase difensiva. Si unia profitta della situazione e da dentro all'aria tenta un tiro che si rivela debole e non proficuo. Due minuti più tardi la stella spezza l'equilibrio del match. De Paoli a terminare un avversario. L'arbitro non ha dubbi nell'assegnare il penalty. Dal dischetto si presenta Siuni che non sbaglia. Zero a uno. Al trentaseiesimo Greco aggancia una palla al vuole calcia con campanelle da viare in angolo. Al quarantunesimo contropiede della stella fermata in maniera fallosa dal giammonito Domeniconi che riceve il secondo giallo e viene quindi espulso. Al quarantatreesimo azione personale di Siuni che giunge al tiro da fuori, stoppato da Sebastiani. Al quarantacinquesimo il poggio impatta. Sebastiani rinvia lungo, sprizzata di testa di Sulpizio che lancia in profondità Neri. La punta giallonera viene stesa da Temeroli ed anche in questo caso il direttore di gara indica il dischetto. Lo stesso Neri realizza rigore. Uno ad uno. Nei minuti finali non accade più niente. Non c'è più tempo. Finisce uno ad uno.